Primo lotto già definito, lavori in corso e in fase di ultimazione. Secondo lotto, non solo finanziato, anche appaltato, nel nostro porto canale diventerà un molo, vero e proprio il nuovo molo nord del porto di Pescara, a cui seguiranno la demolizione del vecchio molo nord del porto di Pescara, la realizzazione del nuovo molo sud e la demolizione del nuovo molo sud. Questo permetterà al bacino portuale di essere completamente protetto dall'insabbiamento del mare e permetterà al fiume di giungere con la velocità necessaria e con i fondali giusti, a largo, evitando anche i problemi che abbiamo visto su tanti fiumi, ahimè, drammatici, devastanti in questi giorni in Romagna. e garantendo, si spera finalmente, ai nostri pescatori di poter uscire, entrare dal porto di Pescara, ormeggiare in piena sicurezza e fare il loro lavoro.